Lucarelli sta per partire un mini torneo, tanta intensità, margini di errore ristretti, Chieti vuole la Serie D. Sì, Chieti conferma l'obiettivo di inizio stagione, è chiaro che avremmo voluto una stagione completa con le 38 partite, 31 ancora da disputare, questo non è stato possibile. Fortunatamente l'idea di fare solo il girone di andata e di mantenere una sola promozione secondo me non giusta come scelta è scomparsa perché poi queste nuove regole ci hanno permesso di ripartire da zero per tutti, quindi partono tutti allo stesso livello, dalla stessa linea e adesso appunto come dicevi chi sbaglierà di meno, chi sarà più attento, più concentrato porterà a casa la Serie D. Mister mi permetta, il Covid può incidere in questa lotta? Sì, quello è un po' un punto interrogativo perché noi non abbiamo tanti margini anche per quanto riguarda la possibilità di concludere un campionato, ci sono delle date da poter utilizzare però l'imprevisto può arrivare in qualsiasi momento, noi più di aver fatto una squadra, una rosa molto larga e di avere le dovute accortezze, quindi i protocolli da seguire con molta attenzione, ragazzi che devono rispettare anche dei comportamenti adeguati in questo periodo, più di questo non possiamo fare, quindi andiamo avanti un passo alla volta, vediamo dove arriviamo, se dovesse capitare dobbiamo mettere in conto che ci potrà essere questo tipo di problema. Ecco, quali sono state le linee di questo mercato che state completando? La società ha sempre detto che era difficile la ripartenza, ma chiedi non si sarebbe mai potuta tirare indietro in un'eventuale ripartenza, quindi abbiamo fatto una scelta ben precisa di arricchire tutti i reparti, dando qualità, dando spessore con alcuni calciatori che sono arrivati e comunque anche un po' di giovani che è veramente importante per la categoria. Per Lucarelli una sfida speciale contro la sua Avezzano e anche contro l'Aquila perché è una sorta di derby personale, come vivrà questo mini torneo Lucarelli? Ah, molto bene, perché veramente la positività di questi giorni, di aver ricominciato, di restare in campo con i ragazzi, vedere l'entusiasmo è semplicemente positivo, è un segnale un po' per tutti sinceramente, quindi è un esperimento che si fa per una ripartenza anche per il prossimo anno o per i prossimi mesi. Quindi io sono solo contento e a me queste sfide piacciono tanto e mi piace, vivo per queste sfide campanellistiche, però dobbiamo affrontare con giusta determinazione e importanza perché comunque c'è una città adesso che spinge, che ci crede, una società che ha fatto degli sforzi importanti, li sta continuando a fare e quindi noi dobbiamo essere all'altezza.